Dopo la decisione del Consiglio di Stato si profila a Biceglie il cambio del gestore del servizio di igiene. Il sindaco Francesco Spina ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, però ribaltando le accuse ricevute dai consiglieri di opposizione. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune? Sì, devo dire che è l'ennesima volta che gli atti del Comune di Biceglie vengono sottoposti a un attento esame, non soltanto dal punto di vista giudiziario ma anche dal punto di vista delle forze politiche, dell'opinione pubblica. Devo dire che anche questa volta è l'ennesima in questi undici anni, non ricordo una sentenza di primo o di secondo grado contro il Comune di Biceglie in termini di legittimità degli atti amministrativi. Vedere il braccino che hanno manifestato i consiglieri dell'opposizione durante il Consiglio Comunale monotematico sull'igiene mi fa pensare, perché sono preoccupato perché i consiglieri comunali che mi chiedevano di disattendere l'interdittiva antimafia, di far finta che non fosse successo niente, i consiglieri Rigante, Angarano, altri consiglieri comunali che chiedevano e imploravano all'amministrazione di non recedere per paura di non so quali conseguenze, oggi dovranno fare una riflessione. E ora? Ora, in pari metà marzo, ci sarà il passaggio di consegne con la seconda classificata. Abbiamo la fortuna di avere una graduatoria che si è formata attraverso una commissione giudicatrice, una gara europea che ha trovato già il vaglio di un TAR, che ha detto in precedenza che questa gara era perfettamente legittima, quindi ci dobbiamo necessariamente rifare a quello che è l'esito di questa gara, scorrere la graduatoria, i dirigenti già provvedono a vedere come debba avvenire questo passaggio di consegne e sono contento che ci siano state già le prime manifestazioni, che la seconda si sia già impegnata in questo passaggio di consegne attraverso degli avvisi pubblici che naturalmente verranno sottoposti all'attenzione di tutti i cittadini bicelliesi. Mi piace questo modo di operare trasparente che abbiamo sempre voluto, devo dire anche in passato si è verificato sempre questa attenzione da parte del gestore anche a rispettare le graduatorie di legge e un modus operandi al comune di Biceglie, mi dispiace, spero che chiedano scusa anche quei parlamentari senza polemizzare, la città di Biceglie attende le scuse del Movimento 5 Stelle per quei parlamentari che hanno offeso in modo violento i cittadini bicegliesi, non per me, non per la mia amministrazione, non per i miei dirigenti a cui va la solidarietà per essere stati accostati a personaggi di comuni che hanno ricevuto provvedimenti di scioglimento per mafia, che non avevano nulla a che vedere col comune di Biceglie, la solidarietà ai dirigenti bravi, onesti, che hanno la responsabilità e ogni giorno portano avanti insieme alla politica di questa città gli interessi della nostra comunità attendo naturalmente le scuse e la retromarcia che sia chiara e netta di quei parlamentari che hanno offeso la città di Biceglie.